Un maxi sequestro di beni appartenenti all'Andrangheta per un valore di 30 milioni di euro che ha toccato anche la provincia di Arezzo, in particolare Anghiari, dove è stato sequestrato un albergo. Gli attuali gestori sono completamente estranei ai fatti. La struttura proseguirà infatti la sua attività in amministrazione controllata. La struttura è però di proprietà di un prestanome calabrese che risiede ormai da 20 anni in Valtiberina, vicino al clan Commisso che opera nella piana di Gioia Tauro. Oltre a quello di Anghiari è stato sequestrato un altro albergo, 13 società, 36 terreni, 22 abitazioni, 7 esercizi commerciali. Le indagini nascono a Latina nell'ottobre del 2015 con l'operazione Krupi che portò in carcere i fratelli Krupi assieme ad altri 11 soggetti originari di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La droga proveniente dal Sud America transitava per l'Olanda per poi approdare in Italia. Parte dei proventi del traffico di droga erano appunto stati reinvestiti illecitamente attraverso le cosiddette teste di legno a cui sono state intestate società, immobile, appartamenti e contocorrenti. Il proprietario dell'albergo sequestrato ad Anghiari è risultato punto di riferimento per altri calabresi che avevano interesse ad investire sia nella Valtiberina Aretina che Umbra. Il provvedimento ha riguardato anche due terreni seminativi, due corti e due garage, tutti intestati alla stessa società con sede legale a Roma.